Piove nelle aule del liceo artistico Sacco Cuore di Cerignola. Il maltempo di giovedì ha fatto allagare nuovamente le aule dell'istituto scolastico. Non è la prima volta che accade visto che raccontano i bene informati. Sono 13 anni che quell'immobile non riceve interventi di manutenzione nonostante i buoni propositi della provincia di Foggia. La scena nella mattinata di venerdì per studenti e professori è stata desolante. Aule allagate ed impraticabili con la conseguenza di un forzato giorno di festa dalle lezioni. Acqua che dal tetto, come raccontano le immagini riprese dagli studenti con i telefonini, è caduta anche nei laboratori dove sono installati i forni per la lavorazione della ceramica. La protesta di alunni e insegnanti si è spostata a Palazzo di Città mentre i tecnici della provincia hanno effettuato l'ennesimo sopralluogo. Protesta che non si ferma, ogni qualvolta il maltempo e la pioggia renderanno impraticabili le aule del liceo artistico Sacro Cuore, i ragazzi risponderanno con un flash mob come hanno fatto questa mattina quando davanti al comune hanno esposto il loro eloquente striscione di protesta. L'artistico non affoga.